ciao ragazzi tu sarai una parte molto importante del nostro on board extreme io sono quello che mi porto al divertimento dimmi una cosa, a che velocità ci porterai? ma a sto giro conto sui 70-75 noi abbiamo toccato i 60 adesso con grado non abbiamo il parabrezino quindi Massimo vai 40 per favore non partire di scatto mi raccomando la prossima volta per fare il flexi ok facciamo un piccolo scudo Mark sii pronto a tenere la corda? io sono la guida dei freni più terrò la camera per il video on board la nostra la nostra go pro cicche vai oh 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 eh ma che la mia faccia la tieni? donna ma piano ahhh va piano ahahahah ahahahah merda ma quanto fa? oh 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 un ruolo giù Comodontor No da buttar via la camera Si è riempita Merda questa da buttar via